«Sto tenendo d'occhio Chamber per te. Fai i suoi giochetti, ma nulla di cui tu debba preoccuparti. Per adesso, almeno. So che non ti fidi di lui, ma non possiamo permetterci il lusso di escluderlo. Chamber si è reso necessario e dobbiamo accettarlo. Finora ha dato buoni risultati. Finché fa quello che gli viene detto, vale la pena rischiare. La nostra squadra non sarà mai perfetta. Se lo fosse, avremmo solo Sova e Sage sul libro paga. Figuriamoci, sei pure riuscito a mettere in riga Bridge. Non so come, ma ce l'hai fatta. Se riesci a gestire lui, puoi gestire Chamber. Continuerò a tenerlo d'occhio. Nel momento in cui i suoi obiettivi andranno contro i nostri, me ne occuperò io».